Torta di miele con crema pasticcera, una torta semplice, cremosa e soffice che vi farà davvero impazzire, ovviamente senza burro e senza lattosio. Togliamo le mere, eliminiamo il torsolo e poi le tagliamo, due a tocchettini e una a fette. Distribuiamo sul succo di limone e le teniamo da parte. La ciotola montiamo bene le uova con lo zucchero fino a farle diventare chiare e spumose, poi uniamo la bevanda alla soia, incorporiamo la farina setacciata e anche lievito. A questo punto inseriamo la scorza di limone grattugiata e le mele, mescoliamo bene delicatamente e poi versiamo tutto quanto all'interno dello stampo per torta. Con l'aiuto di una sac a poche distribuiamo all'interno anche la crema pasticcera. Distribuiamo le fettine di mele a raggera. Spolveriamo su lo zucchero semolato ed inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per circa 40-45 minuti.